Perché ero scarso a giocare a calcio e allora ho iniziato a correre e l'ho sempre trovato affascinante come sport e quella sensazione che ti dà quando vinci da solo è la cosa più bella del mondo quindi per questo motivo qua. Innanzitutto star bene senza avere più acciacchi come ho avuto questa stagione indoor ecco per fortuna adesso si è risolto tutto e quindi puntiamo ai mondiali staffette, agli europei e poi anche alle olimpiadi. Ci proviamo!